Una giornata storica per la città di Torre del Greco. C'è grande soddisfazione nelle parole del sindaco Luigi Mennella che questa mattina simbolicamente ha posizionato nella zona di Via L'Europa la prima pietra del palazzetto dello sport. Un progetto atteso da anni in città soprattutto negli ambienti sportivi che secondo il cronoprogramma dei lavori sarà ultimato nel 2026. Sindaco Mennella oggi è una giornata importante per la comunità di Torre del Greco finalmente un progetto che arriva a compimento posa della prima pietra del palazzetto dello sport. Così come avevamo anticipato oggi è direi una giornata storica per la città di Torre del Greco per i tanti sportivi e non solo. Ecco quest'area nello specifico cosa ospiterà? Quest'area ospiterà tre strutture il palazzetto dello sport che iniziamo oggi come dicevo la piscina ovviamente e lo stadio e lo stadio che proprio in questi insomma entro fine d'anno massimo a gennaio daremo mandato per il progetto preliminare per sapere diciamo in modo più preciso anche i costi e poi avvieremo le procedure insomma per la gara. Che tempi ci vorranno per la realizzazione di tutto? Il palazzetto deve finire entro il 2026 perché sono legati i fondi PNRR così come la piscina. Lo stadio ovviamente inizieremo come dicevo prima sostanzialmente da gennaio, incrociamo le dita, lavoriamo sodo e portiamo avanti i risultati e questo veramente per la città. Una cerimonia ufficiale, la presenza dei tecnici che hanno illustrato gli interventi previsti. Sono intervenuti tra gli altri il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune Michele Polese e la vice presidente del consiglio regionale della campagna Loredana Raia. Questa è un'opera finanziata con i fondi PNRR e diciamo il fine lavori è previsto per il 2026. È chiaro che noi dobbiamo essere molto attenti e vigili affinché diciamo tutti i vari step dell'opera vengano rispettati anche se lo voglio dire con estrema franchezza i lavori pubblici in generale pongono una serie di incognite e di problemi che non sempre ti portano a rispettare i tempi. Però il nostro dovere sarà quello di fare di tutto e di più affinché questo avvenga. Quanto costa quest'opera? Costa parecchio, costa intorno agli 8 milioni di euro, poi dobbiamo aggiungere l'impianto natatorio che sono ancora sui 3 milioni e mezzo di euro, quindi costa veramente tanto e quindi è il nostro dovere principale cercare di non perdere i fondi che ci hanno consentito di arrivare fino a questo momento. Grazie all'amministrazione comunale di Mennella, al lavoro in prima persona del vice sindaco Michele Polese e quindi di tutta la struttura che ha collaborato a che i tempi si potessero insomma traguardare anche con celerità. Devo dire che lo sport a Torre del Greco si è sempre distinto nel tempo in tutte le discipline sportive nonostante la mancanza di attrezzature, impianti sportivi adeguati per grande spirito di sacrificio e grande professionalità e agonismo tant'è che nel tempo in ogni disciplina abbiamo avuto campioni e campionesse di rango regionale, nazionale ed internazionale.